Foto di rito con la fascia tricolore e confronto sui temi che riguardano gli enti locali, questa mattina a Potenza, dove si è tenuto l'incontro tra il prefetto Michele Campanaro e i sindaci neoeletti dei comuni del Potentino chiamati alle urne il 12 giugno scorso. Un'occasione per augurare un buon lavoro per i prossimi cinque anni e per ribadire lo spirito di cooperazione che anima il rapporto tra l'autorità e gli amministratori locali, freschi di elezione o appena rieletti. Un incontro che va nella direzione del rinsaldare le relazioni istituzionali sulla base del principio costituzionale, per me importante, che è quello della leale collaborazione. La prefettura è e resta sempre al fianco delle autonomie locali e quindi anche dei nostri sindaci.